Ciao a tutti, buonasera, sono responsabile delle B-Motors e quest'anno con Balzan, con il supporto della Utility, abbiamo rivinto il campionato per la terza volta consecutiva. Stiamo parlando di Carrera Cup e Alessandro Balzan, a parte che è un pilota fantastico, è un amico ed è simpaticissimo, ma dai, con un pilota così è anche facile. Quest'anno abbiamo fatto molta fatica, è stato più facile l'anno scorso, comunque ce l'abbiamo fatta. La cosa importante sicuramente è la competizione in sé, noi vediamo delle gare in superbike veramente spettacolari, in MotoGP non è così spettacolare, in Formula 1 ancora meno spettacolare, però invece la Carrera Cup è molto spettacolare. Il livello della Carrera Cup in Italia è molto molto alto e bisogna curare tutti i dettagli, tutti i particolari, perché ci sono dei piloti veramente forti e delle squadre altrettanto forti e noi siamo molto orgogliosi di aver rivinto il campionato per la terza volta.